Mi chiamo Alessandra Angelini e sono la proprietaria di Borgo Scopeto. Il nostro prodotto viene influenzato tantissimo dal nostro territorio. L'altitudine così elevata e il galestro sono l'espressione più elegante del Sangiovese. Tradizione e innovazione sono veramente due parole chiavi, perché il Chianti Classico noi lo facciamo tutto in botte grande e qui interviene la tradizione del fare il Sangiovese nella botte grande, rovere di Slavonia, ma poi innovazione da sempre. Noi abbiamo puntato su un prodotto molto elegante, meno sulla potenza ma più sull'eleganza del Sangiovese. Penso che adesso il mercato più o meno ci sta dando retta. La sensazione che provo quando tengo in mano una bottiglia di Borgo Scopeto è sicuramente un grande orgoglio, perché ogni anno il prodotto non va sul mercato se non siamo i primi ad amarlo. e quindi quando lo vediamo c'è l'orgoglio di aver portato a termine un progetto.